ciao a tutti ragazzi oggi parliamo di la sportiva equilibrium top uno scarpone pensato per l'alpinismo anche un pochino invernale uno scarpone che però non mi è piaciuto mi ha deluso sotto tanti punti di vista e adesso vi racconto pregi e difetti all'interno dell'accensione completa inizio come al solito parlandovi del peso taglia 42 pesano 650 grammi nel mio 47 900 è un pochino alto come peso mi sarei immaginato un qualcosa di meno soprattutto nel mio 47 almeno 820 830 diciamo che presi in mano soprattutto quando mettiamo i piedi si sentono che sono un pochino pesanti ma iniziamo come al solito parlare della suola qua troviamo una suola vibram un modello molto particolare perché ha una tassellatura decisamente prepotente è veramente alta soprattutto nella parte posteriore secondo me troviamo un centimetro e pasta di tassello è una tassellatura che ci dà un ottimo grip su tutte quelle superfici come possa essere il fango la neve quando non è compatta quindi neve un pochino pastosa quindi da quel punto di vista sicuramente è un'ottima sola la parte di vibram inoltre troviamo sulla parte anteriore la climbing zone ci dobbiamo un pochino arrampicare e riusciamo a spingere un pochino di punta e soprattutto nella parte posteriore troviamo l'impact brake system ovvero una struttura di là sportiva che va a tagliare la coda dello scarpone per farci che quando noi andiamo a camminare appoggiando di tallone questo ci facilita rullata del piede a livello di intersuola beh questa naturalmente è molto bassa un'intersuola rigida naturalmente molto molto rigida e soprattutto poi nella parte posteriore sul tallone troviamo l'inserto in tpu per andare ad attaccarci un rampone semiautomatico come lavora con rampone questo scarpone beh decisamente bene comunque essendo rigido lavora molto molto bene anzi sull'essere sincero forse il meglio di questo scarpone viene fuori quando abbiamo sul rampone quando non ce l'abbiamo è abbastanza difficile da portare ma dal momento in cui mettiamo sul rampone davvero la storia cambia e si sente la bontà di questo scarpone saliamo iniziamo a parlare della tomaia iniziando dal puntale un puntale durissimo veramente potete prenderci a calcio una roccia non ci sentirete assolutamente nulla soprattutto poi fatto con tutto questo fashion in gomma che lo protegge e anche una parte qua sopra un pochino più resistente prima di che inizi la tomaia vera e propria quindi un puntale anteriore davvero bello strutturato mi piace questo puntale mi è piaciuto molto non mi è piaciuta però la tomaia la tomaia innanzitutto non è molto resistente quando andiamo a mettere sul rampone il rampone la taglia veramente molto facilmente io ho dei punti in cui proprio si vedono i buchi fatti dal rampone e considerato che questo scarpone è pensato per essere usato principalmente con rampone mi sarei immaginato una qualità del tessuto sicuramente più durevole dal punto di vista poi sempre la tomaia anche la termicità mi sarei aspettato un qualcosina di più nel senso che con questo qua si ci vai a meno 5 meno 6 ma io non ci arriverei a meno 10 magari meno 10 in movimento a sole ancora ancora ma non è proprio detto uno scarpone invernale anche perché da quel punto di vista poi la sportiva ha anche altri tipi di scarpone quindi anche lì la tomaia non lo non è né carne né pesce ecco continuando poi arriviamo a parlare del tallone vabbè naturalmente un tallone super rigido ci mettiamo dentro il piede non prenderemo mai e poi mai una storta con questo scarpone però una cosa che non mi è piaciuta vi giro lo scarpone è che da questa parte troviamo tutta la parte di gomma per far sì che questa ci protegga dal rampone si ci protegge dal rampone ma la gomma si rompe facilmente nel senso io ho dentro un sacco di buchi dovuti dal rampone e comunque questi scarponi con rampone usati per tre uscite quindi anche lì cioè se uno li usa una volta che passano le 10 uscite cos'è ha già tutta la gomma rotta non lo so forse potevano mettere un materiale diverso dalla gomma un pochino più resistente perché vi assicuro che questa gomma cioè è piena di buchi cioè si sta completamente rompendo e soprattutto i buchi entrano quindi da qua è andata a quel paese anche tutta l'impermeabilità di questo scarpone ma continuiamo arriviamo a parlare poi di tutta la parte superiore questa qua mi ha convinto soprattutto perché troviamo tutta la parte elastica nella parte superiore della ghetta per così che questa si stringa attorno alla nostra gamba e non entra in neve all'interno poi ve lo vado ad aprire e mentre ve lo apro vi racconto anche della cerniera che questa è un pochino scattosa però alla fine è comunque fatta bene in senso durevole ed è certificata IKK anche lei all'interno magari vediamo se riesco a prenderlo bene 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 ok abbiamo tutta la parte di chiusura con uno strap che possiamo andare a chiudere per rafforzare la chiusura e poi la chiusura principale viene fatta col boa e anche qua questo boa non mi è piaciuto o meglio il boa funziona bene il problema secondo me sta nel tipo di allacciatura questo scarpone secondo me non va bene per tutte quelle persone che hanno magari una taglia di piede o di grandezza la caviglia fuori dal normale mi spiego meglio io ho un piede un pochino grosso e una caviglia un pochino stretta nel momento in cui vado a fare l'allacciatura se voglio avere l'allacciatura perfetta sulla caviglia mi ritrovo praticamente che il piede è chiuso dentro come fosse un salame cioè proprio da fermarmi la circolazione del sangue viceversa se voglio avere il piede stretto bene senza come si fermi la circolazione del sangue dovrò tenere la parte qua sopra di tutta la caviglia un pochino aperta e questo mi ha provocato cinque o sei vesciche nelle escursioni che ho fatto con questo scarpone quindi sicuramente il consiglio di andare a provarli però secondo me davvero qua ci voleva un doppio boa ci voleva un doppio boa uno per la parte inferiore uno per la parte superiore perché comunque siamo in tantissimi che preferiamo magari tenere un pochino la parte inferiore un pochino più aperta la parte superiore un pochino più chiusa o viceversa e questo particolare con questi equilibri un top non è possibile andateli a provare è l'unica cosa che posso dirvi io sinceramente non mi ci sono trovato bene da questo punto di vista a livello poi di tutto il collarino e comunque tutta la parte interna vi posso dire che è molto confortevole davvero fatto in una schiuma decisamente confortevole anche la linguetta svolge bene il suo lavoro è confortevole diciamo che l'alloggio del piede in sé davvero è fatto bene è fatto bene soprattutto anche molto termico quindi l'alloggio del piede mi è piaciuto concludo parlandovi della larghezza dell'avampiede che qua naturalmente parlando di uno scarpone d'alpinismo è abbastanza stretto io nel mio solito 47 l'ho trovato un pochino stretto se di solito prende una mezza taglia in più di la sportiva sicuramente sono una taglia in più e anche lì vi consiglio andare a provarlo e per quanto riguarda la soletta interna questa classica la sportiva mi sono trovato bene nulla da dire da questo punto di vista funziona bene quindi arriviamo quali conclusioni per questi la sportiva equilibrium top ve li consiglio partiamo dal prezzo costano 500 euro secondo me per 500 euro la sportiva poteva fare decisamente meglio davvero soprattutto dal punto di vista dei materiali poteva fare meglio e le tecnologie con questo singolo boa non mi ha convinto più che altro poi non capisco bene per cosa siano pensati questi scarponi sarò sincero alpinismo estivo meglio prendere a quel punto magari sempre dell'equilibrium a modello lt o st che sono più leggeri alpinismo invernale meglio prendere dei gtec o dei g2 che sono molto più termici davvero faccio un po fatica a capire in che modo si presentano all'interno della collezione la sportiva non lo so mi piacerebbe sapere anche da voi cosa ne pensate perché alla fine non è uno scarpone così buono e soprattutto non ne capisco tanto l'utilità quindi aspetto vostri commenti dato ciò ragazzi io nella speranza sia stato esaurente e esaustivo anche per questa recensione vi ringrazio per aver guardato e noi ci vediamo alla prossima ciao